Al prossimo intervento, al prossimo ospite qui a terza pagina del magazine, anteprima, prego Nicolò. Beh, adesso ci trasferiamo in un altro ambito, altrettanto importante per la nostra trasmissione, che è quello della danza. Perché l'artico areuti che da sempre appassionano e sono anche quelle che di volta in volta abbiamo la possibilità di vivere e di poter goderne. In questo momento penso che la danza, sia da un punto di vista dell'insegnamento, sia da un punto di vista proprio di spettacolo, ahimè risente moltissimo di quelle che sono le problematiche legate al Covid. Quindi sarà molto bello poterne parlare con la nostra ospite. Vorrei dare a Michele il compito di presentarla. Prego Michele. Ecco, possiamo con piacere dire che questa sera è in linea con noi, ospite Tonia Labriola. Buonasera Tonia. Salve, buonasera, buonasera ai radioscoltatori. Allora, da sempre ti occupi di danza, sia come docente che come appunto danzatrice artistica. Stiamo vivendo un momento un po' particolare, dove il distanziamento sociale ci impedisce di fare tante cose e presumo che nel tuo campo più di altri, che è un campo dove il corpo ha un'importanza fondamentale, dove il recinto sacro che si chiara tra te e l'artista o l'allievo diventa motivo di crescita, in questo momento è cristallizzato. Certo, assolutamente. Stiamo vivendo un periodo veramente che ha dell'assurdo, del paradossale, dove facciamo un'arte talmente bella e talmente di contatto che ci viene vietato proprio ormai da mesi. Viviamo in questo momento il distanziamento all'ordine del giorno e abbiamo però insomma tutta la positività di andare avanti e sicuramente insomma per quanto riguarda noi come danzatori ahimè tante coreografie vengono montate ed allestite con le distanze tra noi colleghi e per quanto riguarda noi docenti ahimè siamo costretti a mascherina, visiera e igienizzazione costante e distanziamento con gli allievi. Ecco. Quindi diciamo che è molto molto particolare. Molto complesso ma questo non vi è impedito di andare avanti, anzi parliamo della nuova sede della Bilottas presso l'Art Space, dove lavorate ecco mi fa piacere che ne parli. Sì assolutamente abbiamo diciamo un animo molto molto positivo e non ci abbattiamo e quindi proprio in questo periodo dove tutto sembra essere fermo abbiamo diciamo creato una nuova scursale della Bilottas Dance Academy con un mio collega ed un amico fidato e storico e all'interno di questo polo artistico che è l'Art Space nel quartiere di Nomentana Talenti a Roma dove teniamo puntualmente a cadenza settimanale corti di danza classica, danza moderna, hip hop e tanto altro. diciamo che è una situazione in fermento e che tende alla crescita. Quando ci sono cose nuove è sempre bello poterle insomma far crescere. Quindi ricapitolando c'è una sede centrale che si trova? La sede centrale è la Bilottas Dance Academy che si trova in via Flaminia 1068 ormai sede storica e da lì poi abbiamo questa succursale nella zona talenti in modo tale da poter poi... Ed è rivolta a bambini che partono dai 4 anni fino ad arrivare alle ragazze insomma intorno ai 18-20. Parli di ragazze perché è rivolto soltanto al femminile o anche ai ragazzi? No, no, ragazzi, ragazzi. Ah, ecco, perfetto. Quindi è la danza per la terza. Sì, sì, lo volevo sottolineare perché voglio dire i nostri ascoltatori in questo modo possono avere delle coordinate diciamo precise rispetto a questa idea di danza. Assolutamente. È tendenzialmente femminile. Tendenzialmente femminile, ma insomma ci sono tanti anche maschietti che approcciano a questa nuova arte e tanti poi professionisti del settore che insomma danno lusso all'arte della danza. Insomma siamo pieni, quindi siamo veramente polietrici e c'è sempre la ragazzina, la bambina perché è molto più facile. Però quando un maschietto si sforza alla danza è veramente passione pura. Assolutamente. Michele Vitello per una domanda a Tonia. Sì, domande ne ho tantissime. Una tra le tante è qual è il consiglio che possiamo dare ai genitori quando notano il figlio o la figlia comunque molto presi dalle musiche perché spesso i bambini danzano, ballano a modo loro davanti alla tv. Quindi quali sono i consigli che possiamo dare a chi ci ascolta e indirizzarlo magari nella vostra scuola di danza o di danza in genere? Allora io parto dalla mia esperienza personale. Io ho iniziato a 4 anni a stare incollata davanti alla televisione e a ballare tutto il tempo. Da lì consiglio ai genitori di portare le proprie bambine, i figli, i bambini, insomma, in una scuola di danza e sperando di affidarsi a gente competente che abbia occhi per vedere e sapere nel cuore e nelle mani perché purtroppo è un mondo pieno di gente anche improvvisata. Di improvvisazioni, purtroppo sì, è vero. Quindi tu invece hai un curivo ma alle spalle noto, perdonami. Io ho sempre fatto questo perché mi è sempre piaciuto, sono mossa da passione e ho avuto una famiglia che mi ha sempre appoggiato e questo è importante, ecco perché ritornando al consiglio appoggiate le passioni dei figli perché prima o poi portano veramente al successo, comunque alla realizzazione. Io, niente, l'ultima cosa che stavo facendo era prima del lockdown stavamo allestendo la Turandò al Teatro dell'Opera, poi è arrivato il sovrintendente e ha bloccato tutto, quindi insomma prima del Teatro dell'Opera ho fatto tanti altri lavori importanti in teatro nazionali, internazionali e devo dire che con la danza si gira il mondo e soprattutto con la gioia nel cuore se poi fondamentalmente è la tua passione, la tua vita ed è bellissimo. Tonia ti chiedo, nella tua scuola perché ti faccio raffronto con la scuola di mia figlia che a volte prendono i bambini e li portano proprio effettivamente nei grandi teatri a fare degli spettacoli accanto a grandi compagnie, succede questo anche con voi? Sì, guarda, mi hai colto diciamo nel segno perché quest'anno stiamo lavorando sulla creazione di una piccola compagnia che vedrà nei prossimi mesi ovviamente sia professionisti del settore ma anche in serie più meritevoli in un piccolo tour nazionale perché no, il cor nostro speriamo a fine 2021 di riuscirgli a portare anche all'estero, quindi è bello quando ovviamente devi crederci nelle cose, se non credi realmente nella tua passione e diciamo in quello che fai e non affianchi questa tua passione a un grande sapere, specialmente su queste cose. Nel nostro caso diciamo che ci mettiamo di tutto il cuore e il sapere e vogliamo portare i nostri allievi più meritevoli anche a calcare dei palchi con professionisti e penso che questo sia veramente uno dei sogni dei bambini che poi entrano in una scuola di danza e poi magari si ritrovano su un palcoscenico. Grandioso, complimenti. Complimenti veramente, complimenti veramente. Io ecco in chiusura voglio chiederti, ecco una mia curiosità, io chiedo sempre curiosità, qual è stato il teatro che ti ha segnato? Qual è stato il teatro? Il teatro che ti ha segnato interiormente, quello che ti ha dato più un'emozione che l'hai sentita proprio come sei entrata in questo teatro? Allora io prima di quest'ultima occasione della Turandò avevo 20 anni e ho fatto il mio primo ingresso al teatro dell'opera e quello mi è rimasto nel cuore perché ero veramente una del corpo di ballo e poi ovviamente piano 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 sono riuscita a diventare solista eccetera eccetera ed ero talmente piccola davanti a dei grandi con una platea enorme e con un palco all'italiana bellissimo con diciamo quel rosso e quell'oro e diciamo è un'immagine che poi sarà per sempre nel mio cuore. Grazie Tonia per le tue parole, grazie per questo intervento. Complimenti, complimenti di cuore veramente. Grazie mille a voi veramente. All'Accademia Billottas Academy avremo modo di ritrovarti e di assistere a queste iniziative così belle. Sì siamo un anno di grande lavoro e quindi procediamo senza costa. Perché no sul posto, vivere questa emozione sarà unica e rara. Grazie a Tonia Labriola, grazie di essere qui con noi a Terza Pagina Magazine, grazie ancora. Buona serata. Grazie mille, arrivederci.